Buona giornata amici da Massimo Foghetti. Oggi è martedì 8 febbraio 2022 e vediamo anche il tempo, il tempo oggi sarà una giornata particolarmente gradevole, ma vediamo subito come sorge il sole questa mattina. Vediamo che il sole sorge alle 7.17 e tramonta alle 17.25 un po' in tutta la regione Marche. Il santo del giorno, il santo del giorno è San Girolamo Emiliani. Chi era San Girolamo Emiliani? Era un veneziano di nobile famiglia, visse intorno al XVI secolo, capitano della Repubblica di Venezia. Combatté nella difesa di Castelnuovo, un'importante fortezza trevisana, ma fu sconfitto dalle soverchianti forze francesi. Girolamo fu fatto prigioniero. Fece allora un voto. Se fosse stato liberato, si sarebbe dedicato in modo particolare alla carità verso i più poveri, verso gli umili, verso i bambini. Infatti, una volta liberato, si dedicò tutta la sua vita ad assistere gli orfani. Fondò tanti istituti e raccolse dalle strade tanti ragazzi che erano stati abbandonati. Fondò dunque tanti istituti e si dedicò alla protezione dei bambini. Per questo fu venerato dopo la sua morte, appunto, in diversi paesi dell'Alta Italia, Venezia, Brescia, Bergamo, eccetera. E veniamo ora alle previsioni del tempo. Vediamo la cartina delle Marche. Eccola, vediamo il sole. Tempo stabile e solleggiato sulle Marche per tutto il giorno. Temperature massime in rialzo, con punte comprese tra i 12 e i 15 gradi. Venti leggeri e di tensione media, diciamo così, da nord-ovest, mentre sull'interno spireranno da ovest-nord-ovest. E oggi iniziamo la nostra rassegna stampa a partire dal resto del Carlino. Vediamo qui la pagina di Pesaro, con l'apertura dedicata al nuovo palace che dovrebbe sorgere a Chiaruccia. Ma qui sorgono subito delle proteste, perché i residenti non si spiegano come il Comune abbia deciso di spostare la localizzazione di questa struttura di pochi metri, ma in una zona da loro ritenuta incongura. Protestano i proprietari di alcuni terreni a Chiaruccia. Rischio esondazione. Eppure c'era già un'area sportiva a pochi metri di distanza. Il Comune invece ha spostato questa previsione nei pressi del fosso appunto di Chiaruccia, che secondo i residenti è a rischio di esondazione. E poi vediamo un'assoluzione nei confronti di un noto personaggio cittadino, è l'avvocato Nicolò Marcello. Lo accusavano di essersi preso di un appartamento degli oggetti, delle strutture, diciamo meglio, di un appartamento che stava lasciando, ovvero porte, cornici, telai, infissi, addirittura anche la vasca da bagno. In realtà è stato portato in tribunale, il giudice però lo ha assolto, perché il fatto non sussiste. Era accusato di appropriazione in debita. L'imputato ha spiegato che la famigerata vasca da bagno e tutto il resto del mobilio erano stati buttati in discarica nel corso dei lavori di ristrutturazione dell'appartamento. Appartamento nel quale egli stesso aveva fatto delle migliorie d'accordo con il proprietario, tanto che quest'ultimo gli aveva anche garantito un corrispettivo. Quindi assoluzione piena per l'avvocato Niccolò Marcelli. Questa musica arabita vale più dell'oro. Vediamo qui l'intervista dedicata a un personaggio fanese da parte di Silvano Clappis. Questa volta si parla di Daniele Gaudenzi, di Orafo, però conosciuto soprattutto come direttore della musica arabita, che a carnevale insomma anima i corsi mascherati con grande grande vivacità. Daniele Gaudenzi ha preso il posto dei suoi predecessori, di cui ovviamente non si può non ricordare il maestro Berardi, che ha dato impulso e storia a questo gruppo folcloristico. E poi passiamo alla politica. Vediamo che ieri c'è stata una conferenza stampa del gruppo consigliare della Lega, il quale ha chiesto, ha formalizzato anche la richiesta di dimissioni da parte del vice sindaco Fanesi. Sappiamo come il vice sindaco Fanesi è oggetto di riserve da parte del suo stesso partito e ora la Lega affonda un po' il coltello nella ferita chiedendole dimissioni. E perché lo fa? Lo fa perché ritiene inadempiente l'incarico appunto del vice sindaco. Sono cinque i progetti che vengono criticati, ovvero quelli che al momento non sono stati conclusi. la vasca del Lido, il piano regolatore, la variante di Gimarra per quanto riguarda gli interquartieri, il caso delle Mancini, lo stadio Mancini, e poi le scogliere di Sassonia che ancora devono essere terminate. Insomma, in merito a questi progetti non ancora conclusi, appunto la Lega chiede le dimissioni del vice sindaco. Ma le divisioni nuocciano non solo a Fano, lo afferma la segretaria provinciale del Partito Democratico, Rosetta Fulvi. Basta divisioni, ha dichiarato, fanno male a Fano e al territorio. Quando ho incontrato i segretari del PD, ha detto appunto la segretaria provinciale, nonostante l'importanza dei territori, ho detto loro che non si può lavorare da soli e che le divisioni sono il preludio delle sconfitte. Insomma, spetta appunto alla segretaria provinciale, almeno cercare di riunire, di ricomporre le divergenze che sono nate all'interno del Partito Democratico di Fano. Spaccio e lesioni, arrestato ai passeggi in un 58enne, noto alle cronache, deve scontare otto mesi. Si tratta di Antonello Berlich, di 58 anni, scovato dai militari dell'arma mentre era in giro ai passeggi. È stato arrestato e tradotto in serata nel cacere di Villa Fastigi. Deve scontare otto mesi di reclusione per diverse condanne che si sono sommate e hanno dato luogo a provvedimenti restrittivi, condanne che sono state combinate alcuni anni fa e alle quali l'uomo non ha fatto ricorso. Passiamo ora a Pergola. Vediamo come un medico che era in pensione ritorna in esercizio appunto per carenza dei medici. E si tratta del dottor Ottorino Franceschini che da ieri è nuovamente in servizio. Franceschini dalla pensione all'ambulatorio. Il medico di base è nuovamente in servizio a Pergola. Ho accettato l'invito dell'Asur, ha dichiarato, per dare una mano in questo periodo di difficoltà. Ieri, dalle 16 alle 19, Franceschini era già in servizio nel suo ambulatorio di via Martiri della Libertà e ci sarà anche domani, dalle 9 alle 12 e venerdì nella fascia 16 e 19. Riceverò i pazienti tre volte alla settimana, ha dichiarato, fino al 31 maggio, sempre il lunedì e il venerdì pomeriggio e nella mattinata di mercoledì. A San Lorenzo in campo si restavano le mura crollate sei anni fa. Al via i lavori e a San Vito sul Cesano 100 mila euro per scongiurare l'eventuale chiusura della strada. Insomma, finalmente il sindaco dell'Onti è soddisfatto per quanto riguarda la ripresa di questo intervento. Ad Urbino, chiuso il capitolo disdette, c'è voglia di vacanze, serrano le fila agli operatori turistici, sperando appunto nell'arrivo della buona stagione per rifarsi di tutti i problemi, di tutti i disagi e le carenze che si sono registrate durante la stagione invernale. Dopo un inverno disastroso, qualcosa si sta muovendo sia nelle partenze che negli arrivi, ma manca una programmazione mirata sull'estate, dicono appunto gli operatori. Per quanto riguarda i cacciatori, vediamo questo articolo di Spalla, cinghiali, 15 capi abbattuti, Busetto Vicari, grazie, prefetto, un problema questo che insomma grava soprattutto nell'entroterra, sono stati uccisi a caccia chiusa dopo una serie di sollecitazioni alla prefettura e all'acquaroli e a acquaroli per quanto riguarda i danni che stavano provocando. A Cagli imbrattate con lo spray le fiancate del Duomo, appello dell'assessore Mazzacchera, pronti a ricompensare con 500 euro chiunque abbia riconosciuto i responsabili. Il parroco ha segnalato l'accaduto alla locale stazione dei Carabinieri. Insomma, la questione del vandalismo imperversa un po' in tutto il territorio, non solo nelle città della costa anche nell'entroterra ed è un fenomeno che deve essere cambiato culturalmente soprattutto perché poi la repressione insomma abbiamo visto che non sortisce i suoi effetti. Impianti di risalita ambientalisti e l'attacco a che spreco la mancanza di neve sulle nostre montagne dell'entroterra la cattiva organizzazione ecco i motivi di una preventiva fine di una preventivata fine stagione nella nostra provincia insomma nevicato poco si è parlato tanto nei giorni scorsi dell'attività degli impianti di risalita ma conti fatti abbiamo visto che la neve è durata poco e in questo caso gli ambientalisti insorgono di nuovo perché sono contrari ovviamente a tutti gli impianti e alle strutture che sono state effettuate nelle colline nelle montagne dell'entroterra e quindi approfittano della mancanza di neve per dire che molti soldi sono stati sprecati vediamo anche il resto del carlino come affronta le notizie pesaresi ebbene pone in evidenza la manifestazione che hanno fatto i Novax in piazza del popolo a Pesaro dopo l'aperitivo Novax scattano 80 denunce la polizia ha identificato con vari video i tanti che domenica hanno brindato intorno alla fontana di piazza del popolo in arrivo anche multe da 400 euro le accuse rispondono di manifestazione vietata molti senza mascherine previste anche appunto le sanzioni e c'è chi appunto rischia un reato un riconoscimento di un reato che prevede insomma sanzioni piuttosto cospicue educatori per salvare i ragazzi dai social l'ASUR assumerà un sociologo per intervenire con una task force su 41 adolescenti vittime di dipendenze e tra queste dipendenze c'è anche quella appunto del computer coloro i bambini i ragazzi che passano ore e ore davanti ai computer davanti ai social ma anche ai videogiochi compresa appunto quella tecnologica la domanda è semplice quante ore passa in camera vostro figlio davanti al computer Giovanna Diotta Levi del dipartimento dipendenze dell'ASUR area vasta 1 sa già la risposta gli adolescenti possono starci giorni interi con un distacco dalla realtà che ormai loro non vedono più anzi la realtà è quella virtuale insomma non c'è più quella reale vivono in un mondo tutto loro sono convinti che il web sia la vita e sta diventando un'emergenza parlano le educatrici alle prese con qualcuno di loro il sesso per motivi per molti viene dopo una serie tv insomma c'è una deformazione di quello che è la realtà reale e non la realtà virtuale e qui abbiamo una dichiarazione invece di un imprenditore economico come Filippetti che ha acquistato l'hotel Cruiser il più grande hotel della città di Pesaro acquistato dal gruppo Lindbergh qualche mese fa non aprirà la prossima stagione turistica ma sarà oggetto di un profondo e radicale intervento di ristrutturazione ne faremo ha detto Filippetti un hotel a quattro stelle superiore il DOCS beh penso a un'attività di ristorazione dalla colazione all'after dinner quindi una bella struttura a servizio del turismo non solo pesarese ma provinciale in questo articolo invece vediamo mentre dall'altra parte si valorizza il turismo pesarese dall'altra un po' lo si dequalifica perché le ferrovie dello Stato stanno sopprimendo una delle linee ferroviarie uno dei collegamenti ferroviari più importanti della nostra provincia perché mette in comunicazione Pesaro con la capitale con Roma soppresso il freccia bianca per Roma dal primo aprile non sono più acquistabili i biglietti se ne è accorto un cittadino un elettore del Carlino che ha segnalato appunto la notizia nessuno aveva detto niente sparisce dunque il freccia bianca Ravenna Roma Ravenna che non è un treno come un altro è l'unico infatti che collega giornalmente il nord adriatico con la capitale con sosta a Pesaro sono decine i pesaresi che ogni giorno lo utilizzano per raggiungere Roma e rientrare a casa in giornata infatti a Pesaro parte alle 7.16 del mattino con arrivo a Roma alle 10.54 e rientro a Pesaro alle 21.03 dunque in giornata si può andare a Roma e ritornare e questa linea è così importante e ora viene soppressa veniamo alla cronaca dramma della gelosia volano le coltellate è accaduto in via dell'acquedotto lui ferisce l'amico al volto dopo aver saputo di un presunto tradimento della sua compagna arriva la polizia e lo arresta è successo domenica scorsa intorno alle 16.30 in via dell'acquedotto teatro appunto del duello tra i due amici ex amici ormai la lama era instabile e non è penetrata per fortuna tutto è avvenuto dentro un camper e poi vediamo qui ancora di fronte al tribunale palpeggiamenti e minacce per cacciarli dal parco Puccini sono due episodi che sono stati rievocati davanti al giudice un 41enne ha giudizio con l'accusa di violenza privata un altro di 40 anni è indagato per atti sessuali verso un minore palpeggiamenti a una ragazzina e minacce al gruppo di amici per mandarli via dal parco di via Puccini dietro la chiesa di Villa San Martino per questi fatti accaduti nel 2019 un 41enne pesarese è finito a processo con l'accusa di violenza privata mentre un altro 40enne anche lui di Pesaro ma residente a Cagli risulta ancora indagato per atti sessuali nei confronti appunto di una ragazzina giriamo ancora la pagina e vediamo che cosa afferma il resto del Carlino a Monte Labate meno rifiuti bolletta più bassa al cassonetto si va con la tesserina il comune ne vuole chiedere 482 a Marche Multiservizi tutti informatizzati registrano la quantità dei conferimenti ed è bello interessante è utile poter pagare i rifiuti in relazione alla quantità che ne si producono insomma uno che produce meno rifiuti dovrebbe pagare meno la bolletta appunto della rimozione di questi il sistema attuale di libero accesso è anacronistico afferma l'assessore Ferraro ora approfittiamo dei fondi del PNRR e passiamo ora al Corriere Adriatico vediamo la pagina di Fano che è dedicata alla politica infatti qui si parla diffusamente della conferenza stampa che ieri il gruppo consigliare della Lega ha convocato per formalizzare la richiesta di dimissioni da parte del vice sindaco Cristian Fanesi Fanesi impallinato dal fuoco amico lo era già la Lega ora chiede le sue dimissioni presentata una mozione in consiglio l'onorevole Lucentini che si è agrogato al gruppo consigliare fa l'elenco dei progetti mancati e degli errori ma in questo caso il PD che fa? il PD si ricompatta perché di fronte all'attacco esterno portato dall'opposizione il Partito Democratico serra le fila il vice sindaco una strana tempistica il PD esprime solidarietà ma lo chiama assessore quindi non ci sono richieste di dimissioni da parte del Partito Democratico al suo escritto soltanto la rinuncia al ruolo di vice sindaco e vedremo come andrà a finire mentre Cristian Fanesi reagisce in maniera un po' ironica un gioco di bassa lega ha detto alla lega trovano un portafoglio e lo restituiscono sono felice bravi i bravi ragazzi esistano ha parlato dominda dominda zaccardi che aveva perso il portafoglio al pincio ormai ci aveva messo una croce sopra ma in realtà alcuni ragazzi lo hanno ritrovato e lo hanno consegnato non conosco i loro nomi ma voglio ringraziarli ha dichiarato dominda zaccardi la proprietaria del portafoglio smarrito ritrovato appunto da questi ragazzi onesti ma c'è anche un altro episodio un altro episodio che si è verificato a Marotta madre e figlio passeggiavano in spiaggia ebbene perdono i documenti perdono il portafoglio e anche qui sono stati riconsegnati il fatto è successo l'altra mattina sul lungomare nord di Marotta in via Fa di Bruno e qui vediamo poi a fondopagina un dramma un dramma per quanto riguarda il dramma della solitudine della disperazione un cappio e un colpo di fucile addirittura sono due i suicidi che si sono verificati in questi giorni due anziani hanno scelto la morte si tratta di un uomo di 82 anni che si è tolto la vita nel giardino della sua abitazione è stato trovato un biglietto che spiegava le motivazioni del suo gesto una tragedia analoga risale invece al pomeriggio di domenica scorsa ed è avvenuta in zona della trave intorno alle 17.30 la richiesta di intervento da parte del forte dell'ordine un uomo di 78 anni si è tolta la vita sparandosi un colpo di fucile nella sua abitazione insomma due drammi veramente che si sono conclusi tragicamente insulti razzisti contro russo il patron del fano calcio non rappresentano la città ci sono state subito delle dissociazioni per quanto riguarda le scritte offensive che sono apparse nei pressi dello stadio Mancini ai danni appunto del presidente del fano calcio l'assessore Brunori che è l'assessore allo sport dice è un fatto isolato non c'entra con la tifoseria tifoseria ufficiale che ieri ha preso subito le distanze da questo atto inqualificabile e il sindaco Seri ha parlato con il presidente insomma si è cercato di dissociare la città quella insomma che vive il calcio in maniera positiva di fronte a certi atti che sono ingiustificabili per 13 posti in comune ci sono 200 candidati in corsa contratti a tempo indeterminato è stato fissato lo scritto insomma sono molti molti coloro che aspirano a un posto fisso in comune una novantina sono coloro che si sono fatti avanti per il ruolo di funzionario amministrativo all'ufficio sport e poi sono tantissimi anche coloro che concorrono all'assunzione di quattro istruttori tecnici esperti edili riservato ai geometri qui a gareggiare sono una sessantina mentre si registra qualche adesione in più al bando per otto posti di funzionario tecnico specialista in lavori pubblici a Cagli briglia abusiva sul Burano la procura torni ad indagare sono i pescatori che invitano appunto la procura a riaprire l'inchiesta sul manufatto che era un manufatto abusivo e poi torniamo a Fano perché c'è stata una replica del comitato Arzilla resistente alle prese di posizione della FIAB Forbici che aveva così minimizzato i problemi che avrebbe determinato il progetto realizzato dall'amministrazione comunale sul greto dell'Arzilla per allargare la pista ciclabile dice infatti Forbici che quello era un progetto buono perché era in sintonia con le norme di legge mentre il comitato Arzilla resistente evidenzia i danni che il progetto farebbe nel contesto ambientale e quindi dimostra ancora la sua contrarietà a San Costanzo dopo l'intervento il covid lungo calvario di Susanna è Susanna Luzzi una 47enne ricoverata da due mesi in chirurgia a Sant'Orsola di Bologna ricoverata a Sant'Orsola colpita da Omicron e curata con i nuovi farmaci vediamo anche la pagina di Senigallia dove si parla ancora del pestaggio eseguito su un quarantenne che ora è degente in chirurgia preso a calcio in faccia sarà operato si cercano i testimoni del pestaggio il sindaco interviene e dice un episodio gravissimo in arrivo sono 200 telecamere insomma Senigallia si dimostra sempre più come una città non certo molto tranquilla sul fronte dell'ordine pubblico è giustamente l'amministrazione comunale ma anche le forze dell'ordine corrono ai ripari e qui vediamo un episodio qualificante su questo articolo scritto su fondo beige il foro come bagno multati in sei sono stati sorpresi dalla guardia di finanza a fare la pipì appunto sul cancello del foro dovranno pagare in totale 3.300 euro di multa e poi si parla di droga sempre a Senigallia lo spacciatore arriva in taxi preso dentro casa c'era il complice si tratta di persone di colore erano africani facevano la scuola da falconare per piazzare l'ascis e qualcuno arrivava anche in taxi e veniamo ora allo sport vediamo che per quanto riguarda la vis si si lecca un po' le ferite per quanto riguarda la sconfitta di domenica scorsa vis che domenica da incubo il peggior match casalingo guiterbese dominante la squadra che ha vinto la partita la squadra di banchini albenelli fatica di più non essendo portata alla conquista del campo mai tanta pochezza offensiva è stata riscontrata un paio di spunti di cannavoe basta per un tempo il team non ha oltrepassato la metà campo quindi una squadra fiacca anche dal punto di vista del mordente e per quanto riguarda il fano calcio vediamo che c'è ancora da riconsiderare quanto è avvenuto ai danni del presidente Alma insulti sciocca al patron russo e ora indaga addirittura la Digos gli investigatori potrebbero controllare anche le telecamere installate lungo il perimetro dello strado per individuare gli autori di quelle scritte offensive i club condannano l'episodio ebbene era l'ultima notizia a questo punto Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento a domani alle ore 7 e come sempre per le notizie del giorno a questa sera occhio alla notizia delle ore 20 e 30 condotto da Simona Zonghetti questo è tutto per il momento buona giornata a risentirci Grazie a tutti Grazie a tutti